Benvenuto e benvenuta. In questa meditazione ci immergeremo in un viaggio introspettivo per ritrovare il contatto con la nostra voce interiore, la voce connessa all'anima, che può offrirci supporto e sostegno. Se ancora non l'hai fatto, adotta una posizione comoda, preferibilmente seduto o seduta a gambe incrociate, senza appoggiare la schiena. Immagina che ci sia un filo sospeso che porta in alto la tua testa. Visualizza una luce dorata che passa in modo circolare intorno a tutta la tua spina dorsale e va su. Va su passando dal petto, la gola, la testa, e va su, verso lo spazio, sempre più su. Sempre più in alto e si collega ad una stella, ad una cometa o a un pianeta luminoso e continua ad andare sempre più su. Su in alto e a mano a mano che senti sempre più il tuo corpo sospeso nel vuoto, inizi a percepire una leggerezza tra tutti i tuoi muscoli, tra tutti i tuoi organi, tra tutte le tue cellule. Quella leggerezza che ti permette di sentirti ancora una volta, sempre più leggero o leggera, sospesa e avvolta in una sfera luminosa che ti protegge, una bolla, una bolla di luce che ti protegge. Ti sostiene, ti senti completamente leggera o leggero e stai flottuando nello spazio, come se potessi permettere al tuo corpo di volare nel cielo. E mentre vai su, sempre più in alto, tutti quei pensieri inutili, tutte quelle parole inutili che spesso ripeti durante la giornata, le lasci volare via e osserva che questa leggerezza ti permette di connetterti sempre di più a una sorgente. Quella sorgente dove trovi spazio, quiete, tranquillità. Fai ora un gesto come se potessi fare un inchino, muovendo leggermente la testa con il mento verso il basso, verso il tuo petto, come se potessi ringraziare la tua anima. Ringrazia per questo momento che ti stai dedicando, un momento dove puoi portare l'equilibrio, l'armonia, la gioia, quell'armonia che ti permette di entrare sempre di più nella tua profondità. Se senti ancora un po' di tensione nel tuo corpo, fai un bel respiro profondo e lascia andare. Grazie a tutti. Ancora una volta, respira e lascia. Così come puoi lasciare andare il tuo respiro, puoi lasciare andare tutti i dubbi, le perplessità. Puoi lasciare andare tutti gli attaccamenti, quei pensieri che ormai fanno parte del passato. Ispira ed espira lasciando. Liberati. Ora porta la tua attenzione al tuo centro. Continua a sentire che stai fluttuando nel cielo, nello spazio, nelle stelle. Il tuo corpo è sempre più in armonia con l'ambiente circostante e osserva. Osserva. Il silenzio. La calma. La quiete. Mentre osservi i colori dello spazio, del cosmo, avverti un richiamo che ti attrae verso un pianeta. Ha una luce diversa rispetto a tutto il resto, più brillante. Molto luminosa. È come la luce di un faro che ti sta chiamando e ti attrae. E mentre ti muovi verso questo pianeta, ancora una volta, lascia andare. Lascia andare dietro di te tutto quel passato, tutto quello che non ti appartiene più. Lascia andare tutto ciò che è superfluo, inutile. Palazzo. Il meteo. Il tempo. Il tempo. Il primo. Il recovery di un'anim место, di tutti i neonati costituiti, del solito. Ora osservi che ci sono degli esseri di luce che ti aspettano. Puoi comprenderlo attraverso la vibrazione che stai sentendo in ogni singola cellula. Ascoltati. Magari puoi sentire delle piccole scariche elettriche o dei piccoli movimenti impercettibili. Li riconosci nel tuo corpo. Sono tutti micromovimenti che ti permettono di capire che in qualche modo stai ricevendo delle informazioni che non sono parte della tua mente. Fanno parte di una connessione molto più profonda. È la tua anima che desidera comunicarti qualcosa. La tua anima, in questo momento, può aprire quella porta interiore e sai che lì c'è un nuovo mondo da riconoscere, da scoprire. Un mondo dove puoi trovare delle conferme, puoi trovare la tua verità e chiedere tutto quello che desideri. Un mondo dove puoi trovare delle conferme, puoi trovare delle conferme, puoi trovare delle conferme. Un mondo dove puoi trovare delle conferme, puoi trovare delle conferme. Un mondo dove puoi trovare delle conferme, puoi trovare delle conferme. Grazie a tutti. Ora, mentre ti stai aprendo a nuove opportunità, gli esseri di luce diffondono amore, sostegno, energia, forza, vitalità. Stanno caricando di luce il tuo corpo fino a fare un pieno di energia positiva, di vibrazioni positive. Senti come questa nuova energia scorre nelle tue vene, nel tuo ossigeno, nei tuoi organi vitali. Tutta questa energia purifica anche se non vedi chiaramente tutto quello che puoi vedere e se non riesci a immaginare tutto quello che puoi immaginare. Questo flusso energetico lo puoi percepire attraverso un cambio di temperatura, forse nelle tue braccia, nelle tue mani. Puoi sentire che qualcosa sta accadendo nel tuo corpo. Il tuo corpo sa come darti le giuste informazioni. Il tuo corpo sa come darti il contatto per comprendere che stai sempre più entrando in comunicazione con la tua anima. Il tuo corpo sa come darti il contatto per comprendere che stai sempre più entrando in comunicazione con la tua anima. Il tuo corpo sa come darti il contatto per comprendere che stai sempre più entrando in comunicazione con la tua anima. Se ancora non hai sentito quella vibrazione, quelle sensazioni, se ancora non hai percepito quella voce, chiedi all'anima. Anima mia, fammi sentire che ci sei. Fammi sentire nel mio corpo fisico che stai muovendo la tua energia. Chiedilo. Il tuo corpo ti darà sempre le giuste informazioni. Ammi sentire nel mio corpo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.